Vigilia di Coppa Italia, domani con inizio alle 18.30 all'Adriatico-Cornacchia il derby. Pescara-Pinetto valido per il secondo turno, gara secca in caso di parità dopo i tempi regolamentari. Si disputeranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Chi passa il turno affronterà la vincente del match Giuliano-Latina. In studio per parlare di questo derby ma anche per focalizzarci un po' su come arrivano a questo appuntamento le due squadre. Massimo Profeta che saluto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, a tutti gli amici di Visione d'Ascolto. Il Pinetto ci arriva molto bene alla rivelazione di questo campionato dopo la Torres. Abbiamo parlato anche ieri con Carmine Torres che è la capolista. Insomma è una squadra che gioca insieme da alcuni anni. Il Pinetto invece è una rivelazione perché è la matricola del campionato di Serie C. Tra l'altro all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Questa è la curiosità. Quattro vittorie e due pareggi in questo esilio a cui è stato costretto il Pinetto. 12 partite di fatto e giocate fuori casa dalla squadra di Daniele Amaulo. Ebbene 14 punti dei 17 in classifica li ha conquistati la formazione biancazzurra proprio all'Adriatico Giovanni Cornacchia. I biancazzurri invece di Zdenek Zeman sono reduci da diverse settimane in cui purtroppo le cose non sono andate bene. Soltanto quattro punti nelle ultime sei partite. Insomma storia nota. Sappiamo che ci sono dei problemi sul piano del gioco, anche sul piano della produzione delle palle gol. Però questa partita deve essere importante. Può essere un nuovo inizio. Un buon viatico se vogliamo in vista del posticipo di campionato. In programma lunedì prossimo l'Adriatico Giovanni Cornacchia. Di fronte, ricordiamo, Pescara e Rimini alle 20.45. Massimo, in questo derby di Coppa Italia, secondo te Zeman darà spazio magari a qualche giocatore che gioca meno? Mi viene in mente, tu prima parlavi di produzione offensiva, Vergani che non gioca mai. Sì, sicuramente darà spazio a quelli che finora sono stati impegnati poco, sono stati impiegati poco. Abbiamo anche preparato una grafica, chiedo a Dino D'Angelo di mandarla in onda. Ecco, questa è la probabile formazione, siamo nel campo delle supposizioni naturalmente, però ci sono tante novità. C'è anche Mora che tra l'altro ha giocato fino a questo momento, guarda te lo dico perché ho puntato i dati, 123 minuti soltanto di cui 90 in Coppa Italia contro la Fermana lo scorso 5 ottobre e 33 in campionato nella trasferta di Lucca. Vergani, che domani dovrebbe essere schierato dal primo minuto, addirittura soltanto 28 minuti in campionato, cioè 3 contro l'Arezzo e 25 col Pineto nella gara di recupero dello scorso 11 ottobre. Aveva anche giocato in Coppa Italia contro la Fermana a 55 minuti, insomma il minutaggio è stato davvero scarso per questi due giocatori. Domani saranno impiegati, utilizzati, presumiamo, da Zdenek Zeman. Questa è la probabile formazione, ciocci tre pali, Floriani, Pellacani, che non sta benissimo. Il girocchio fa ancora delle bizze, diciamo così, perché Pellacani, ricordiamo, ha subito un'operazione molto delicata, un anno fa, più di un anno fa, e ancora non si riprende pienamente, però dovrebbe essere utilizzato al primo minuto, insieme con Mesic. Mesic perché? Mesic sarà squalificato, è stato squalificato, dunque salterà il match interno con il Rimini in programma lunedì prossimo all'Adriatico. Se non dovesse giocare Mesic, allora ci sarebbe la possibilità per il giovane Staver, cresciuto nel bivaio, classe 2003, che aveva fatto molto bene con la Fermana, prima di accusare quel piccolo problema che aveva fatto un po' impaurire tutti quanti. Non so se ricordi contro la Fermana, si era dovuto fermare per un battito cardiaco piuttosto accelerato, però poi tutto rientrato nella normalità. Milani a sinistra, centrocampo Mora, dovrebbe fungere da vertice basso con Manu e Dagasso Mezziali, davanti Masala, poi c'è il dubbio Cangiano a Cornero e il riferimento centrale dovrebbe essere Bergagno. Siamo sempre condizionale, quanto mai di rigore. Questa la probabile formazione, il Pineto ha delle assezze sicuramente certe, ricordo quella di Schidone che si è infortunato proprio nella gara di recupero con Pescara, purtroppo campionato finito, pressoché finito per questo giocatore, per un problema al ginocchio e poi Pellegrino ai margini. Ci sono tanti giocatori acciaccati. La curiosità, De Santis, che sta giocando, un difensore del 1993, aveva fatto un provino, una settimana di prova col Pescara sei anni fa, la stagione 2017-2018, con Zeman in panchina. Veniva da diversi anni importanti in Serie D, col San Nicolò notaresco, ha anche vinto un campionato di eccellenza, con il San Nicolò allenato all'epoca da Massimo Epifani nella stagione 2013-2014, una settimana di ritiro a Palena, ricordo perfettamente, poi furono prese altre decisioni. Senti Massimo, ti volevo chiedere un'ultimissima cosa. In casa Pineto, oltre a tutta la squadra, si sta mettendo in evidenza Volpicelli, questo attaccante. Sì, insomma, diciamo in evidenza, lo conosciamo. Almeno adesso. È un giocatore importante per questa categoria, un giocatore che può fare la differenza, la sta facendo nel Pineto, ha già realizzato cinque gol e il valore aggiunto lì davanti della squadra di Daniele Amaulo, senza dimenticare Shakir, che è stata un'altra ottima intuizione di mercato della DS di Marcello Di Giuseppe, non sta facendo benissimo Gambale, Gambale che aveva disputato un'ottima stagione due campionati fa, quindi due anni fa nelle fila del Montevarchi, lo scorso anno non benissimo a Lavellino, però è stata una stagione travagliata. Quest'anno diciamo che ha fatto un po' fatica Gambale, mentre stanno andando molto bene sia Volpicelli che Shakir. Volpicelli cinque gol, classe 92, ma insomma aveva già fatto tanti gol nella Viterbese due anni fa, mi pare 14-15, anche nel Matelica è un giocatore, ripeto, che se sta bene è in grado di fare la differenza, non è anziano perché comunque nel pieno della maturità, 31 anni e ha un sinistro che canta, come si dice in gergo.